Ibrahimović non tornerà al Milan. Sarebbe stata una bella storia, ma non accadrà. Resterà ai Los Angeles Galaxy. Ci avevamo pensato e anche lui ci pensava, ma alla fine non si farà. La confessione è di Leonardo, direttore dell'area tecnica e sportiva del Milan. Finisce così una telenovela di mercato che sembrava a lieto fine. E invece no, niente ritorno di Ibra, a meno di clamorosi dietro front.desktop menore di spendclass uguale notification barra spangazzetta tcx link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it With anyone? See the Facebook help center for more information.tra UEFA e mercato. Il Milan comunque si muoverà a gennaio. A questa squadra potrebbe servire un centrocampista d'esperienza e magari un'opzione in più in attacco. Fabregas? Stiamo vedendo, ma non abbiamo fatto nessun affondo. Eliott e i rossoneri devono però fare i conti con i paletti imposti dall'UEFA, in attesa di sapere a che sanzione andrà incontro il club per il triennio precedente. Il fairplay finanziario è un puzzle difficile da risolvere e anche se questa proprietà ha voglia di fare grandi cose, bisogna crescere piano piano, passo dopo passo. Ultime parole su Gattuso sarebbe bello un giorno vincere qualcosa con Rino in panchina. Per il Milan sarebbe davvero una gran cosa. .